In questo video ci sarà tutto ciò che non riguarda il libro, ma... Sei tu, chi può darti di più, sei tu, sei tu, sei tu, chi può darti di più. La terza volta ti fa pensare, la quarta volta stai a guardare. Sei tu, sei tu, sei tu, chi può darti di più, sei tu, sei tu, sei tu, chi può darti di più. Cioè, quindi se io vengo entro le sei del mattino, ho una stanza. Hai una stanza per stare qui la notte, entro io vado al lavoro, via. Benissimo. In questo presente che capire non sai, l'ultima volta non arriva mai, l'ultima volta non arriva mai. In questo presente che capire non sai, sei tu, sei tu, sei tu, chi può darti di più. Conforme a chi, conforme a cosa, conforme a quale strana cosa. Questo è offerto dalla nostra amica, pubblicizza questo con le telecamere. In un caso francese, è... L'olore, che non si può filmare, se lo vuole, è molto forte, delizioso, mi acconso a tutti. E poi la tua destinazione si troverà sulla destra. In questo presente che capire non sai, l'ultima volta non arriva mai. L'ultima volta non arriva mai, in questo presente che capire non sai. Senti, testa di cazzo. Allora, innanzitutto il mio amico ha comprato il libro, però lo voleva autografato. Quando passi? Perché se no non mi vado e speditelo, cioè nel senso, aspetta a te. Allora, innanzitutto il mio amico.